Abbiamo insieme lavorato ad un avviso pubblico per la scelta del Presidente dell'Antitrust che è una nomina fondamentale che è delegata al Presidente della Camera, al Presidente del Senato nelle loro intese e siccome volevamo cercare di dare un senso anche più ampio alla legge ovvero cercare di fare una procedura più aperta, più trasparente e inserire anche un seme culturale per come devono essere fatte oggi le nomine, quindi completa indipendenza basate sul merito vogliamo dare a tutti la possibilità di partecipare. Questa conferenza stampa serve proprio a divulgare anche il fatto che c'è un avviso pubblico che Camera e Senato hanno fatto insieme. L'avviso pubblico scade il 14 di ottobre e sulle nostre mail arriveranno una serie di curriculum. La novità sta nel metodo, un metodo di trasparenza e un metodo che riguarda in questo caso la diffusione la diffusione di questo incarico in modo che si stabilisca anche un percorso nuovo di conoscenza da parte di tutti i cittadini. Noi siamo come Presidente di Camera e Senato, quindi come istituzioni, organi di garanzia. Questo è il significato e questo è anche così un, per così dire, un inizio rispetto anche ad altre scelte che noi potremmo fare anche in seguito che dovranno sempre essere all'insegna di un'assoluta trasparenza.